Cos'è successo? Niente, sono passati due tipi con il passamontagna, avevano due pistole in mano, ho sentito pum pum, due sparatorie, poi sono arrivato... Noi sono arrivati, sono arrivati dall'azione in cima... Dai, veramente, ripeti, scusa. Niente, sono... si stava passando qui, sono passati due incappucciati, si stavano sparando, e niente, allora mi sono girato, e vedevo... Sì, sì, tutta la gente si è spostata, si è formato un gruppo, poi c'era gente che... Un poliziotto che correva dietro questo passamontagna, e poi, dopo circa 10 minuti sono arrivati, la polizia, la polizia, la polizia...